salve a tutti i ragazzi sono sempre io leoast90 ormai ci siamo siamo verso la fine insomma nel corso di questi ultimi video dell'angolo tech avete visto praticamente tutto ciò che c'era di cui c'era bisogno per assemblare un pc ma mancavano ancora due elementi di cosa sto parlando beh sicuramente della scheda video e poi anche comunque non dimentichiamo quello che può essere il lettore o un masterizzatore che può essere anche ormai diciamo a giorni d'oggi quasi un accessorio un po superfluo ma per me è sempre ancora molto importante bene partirei col parlare appunto quest'oggi dal partirei parlando appunto del masterizzatore per poi passare alla scheda video che vi avverto che la tratterò della scheda video in maniera piuttosto diciamo superficiale questo perché perché vedrete poi ne parlerò ancora solamente dopo aver assemblato il pc e dopo che avrò modo di giocare magari quello che sarà un battlefield un batman insomma tutti i giochi che avrò a disposizione che avrò modo insomma di provare per poi darvi quindi un feedback su quello che saranno i frame molte altre caratteristiche ma appunto questo le lascerò a tempo debito dopo aver assemblato il pc per questo oggi ci accontenteremo di vederla di parlare magari in quelle che sono alcune delle sue caratteristiche ma poi per andare a parlarne meglio solamente dopo l'aver assemblato il pc quindi iniziamo con questo il masterizzatore un masterizzatore asus che ho acquistato sui price a 90 euro circa allora perché 90 euro beh perché questo non è un diciamo normale masterizzatore in quanto non andrà a masterizzare solamente dvd ma è anche un lettore blu ray ma soprattutto anche un masterizzatore blu ray dovete fare molta attenzione al momento in cui andate ad acquistare un masterizzatore blu ray perché spesso viene scritto master lettore blu ray slash masterizzatore dvd nel senso che legge blu ray ma masterizza dvd e non blu ray questo invece è un masterizzatore anche di dvd chiamiamolo blu ray quindi è in grado di masterizzare a una velocità di 12x quelli che sono i blu ray vi faccio vedere giusto una panoramica con poche informazioni perché non ne dovete conoscere molte perché sono superflue alimentazione collegamento sata e più che altro per me adesso oggi come oggi insomma potete trovare sul mercato anche altre opzioni valide ci sono anche lg che presentava sempre un sempre sui price l'avevo trovato ma non era disponibile quindi non sono riuscito non potevo acquistarlo altre soluzioni per andare a magari avere un masterizzatore blu ray piuttosto insomma efficiente e performante io ho optato per oggi come oggi a un masterizzatore blu ray perché sta diventando comunque un formato sempre più necessario e soprattutto magari se in camera vostra voleste godervi sul vostro pc un bel blu ray con questo potete farlo potete tranquillamente farlo e magari se aveste anche necessità di archiviare file da belli pesanti potete masterizzarli su un blu ray e quindi pensavo che fosse una buona spesa e per questo appunto una novantina di euro poi più correttamente sono 92 euro però ottimo per questo masterizzatore asus comunque vi faccio anche presente che potete magari anche trovare altre marche come ad esempio lg che sarebbe stata la mia prima scelta ma non era disponibile e adesso passiamo a parlare di uno di quei componenti che sicuramente molti di voi attendevano e desideravano vedere ossia la scheda video in particolar modo questa è una GTX 660 ma prima di parlare più nello specifico di questa scheda video spendiamo giusto due parole per introdurre al discorso bene questa è una scheda video che costa intorno ai 230 euro che potrei personalmente classifico in una fascia media ossia è una scheda video che vi potrà dare le sue insomma delle soddisfazioni vi potrete giocare avere dei frame rispettabili sicuramente ma dovete sapere che comunque sul mercato sono presenti anche altre schede video sicuramente dalle performance migliori per esempio potreste nel momento in cui il vostro budget fosse superiore magari optare a spendere un 330-300 e passa euro magari per andare ad acquistare una GTX 670 che sicuramente ha prestazioni migliori vi potrà garantire anche in gioco quello che molti di noi guardano ossia un frame, una frame rate sicuramente più elevato però comunque la GTX 660 può offrire comunque una buona esperienza di gioco soprattutto anche per il prezzo a cui la acquistiamo appunto un 220-230 euro insomma poi dipende anche dove la comprate e quindi per questa cifra sicuramente è un ottimo compromesso tra quello che è un rapporto qualità-prezzo e questo è spesso anche una di quelle strade che dovrete scegliere perché quando andrete a assemblare il vostro PC dovrete rientrare come vi ho sempre detto nel budget e quindi magari sarete costretti a tagliare da una parte e dall'altra e investire in un punto quello che vi consiglio è investire spesso in quello che è scheda video e processore e magari andare a ritagliare qualcosina su altri componenti ma andiamo ad aprire questa confezione giusto per iniziare a farle prendere un po' di aria questa scheda video che qui dentro sono convinto che stia soffocando ed eccoci qui con la confezione sicuramente molto cool, molto pulita, molto essenziale dell'Asus vi ricordo appunto il modello essere una GTX 660 DirectCU 2 top ed è un modello overclockato di fabbrica allora io personalmente apprezzo sempre molto quelli che sono i modelli overclockati di fabbrica questo perché? perché insomma si ha già un overclock di base e soprattutto si ha la possibilità di conservare quella che è quindi la garanzia con un modello appunto overclockato allora qua abbiamo appunto la scheda video che mettiamo subito in primo piano ma aspettiamo un attimo e vediamo cos'altro ci offre questa confezione che sono il manuale, abbiamo appunto il manuale e il CD di installazione dei driver questo lato probabilmente avremo quello che può essere un convertitore DVI to... si esatto, DVI e VGA e nient'altro magari potevano anche inserire un simpatico cavo HDMI che non sarebbe insomma non mi sarebbe dispiaciuto ma passiamo oltre e andiamo a parlare e vedere un po' anche in camera quella che è questa scheda video sicuramente vabbè non conta l'estetica ma possiamo vedere e parlarne un attimo e si molto carina il disegno tema molto semplice ma comunque caratteristico di ASUS nella parte posteriore vediamo anche un po' le connessioni che abbiamo appunto due connessioni DVI ebbene questa è insomma la scheda video che andremo a inserire all'interno del nostro PC questa 660 che come vi ho detto insomma potete poi eventualmente optare per schede video che può essere magari piuttosto una versione come suggerisco magari una 670 insomma anche a vostra discrezione questa scelta ma ora come ora mi spiace magari per chi di voi avrebbe desiderato sapere di più su questa scheda video ma mi fermo qua, per quale motivo? perché parlerò in maniera più approfondita di questa scheda video o meglio ve la mostrerò in azione solamente dopo aver assemblato il PC ho preferito optare per questa scelta per il semplice motivo che penso che sia anche la soluzione migliore mostrarvela in gioco, farvi vedere con esempi pratici i frame che questa scheda video è in grado di sostenere all'interno di un videogioco alle varie risoluzioni per questo rimando magari quello che sarà la valutazione di questa scheda video solamente dopo un test sul campo che non avverrà oggi ma avverrà prossimamente quindi per questo è tutto per questa scheda video e vi lascio alla parte conclusiva di questo video quindi ormai ragazzi ci siamo abbiamo visto tutti i prodotti necessari per andare a assemblare questo PC vi ho dato magari quelle che potevano essere le mie dritte alcune considerazioni mie personali nel momento in cui vado a creare una config ma vi ricordo, visto che questa è l'ultima puntata prima di andare a assemblare appunto il PC è che dovrete comunque fare molta attenzione più che altro è quello che saranno le compatibilità nulla di più perché alla fin fine nel cercare i prodotti non c'è nulla di difficile l'unica cosa che dovrete fare attenzione sarà quello di trovare componenti compatibili tra di loro e mi riferisco vi ricordo a scheda madre, processore, dissipatore, RAM sostanzialmente sono questi quelli che possono essere i punti critici nell'assemblare un PC e magari sì potrebbe esserci anche il case controllare che la scheda madre sia supportata dal case che ci sono le... dovete controllare se il case monta una scheda madre ATX piuttosto di micro ATX sono tutte cose che dovete controllare ma basta prestare semplicemente attenzione ma soprattutto è importante anche nel momento in cui andrete a creare la vostra config o andare ad acquistare i prodotti sarà quello di delineare, definire un budget e in base al vostro budget andare quindi ad acquistare i prodotti cercando magari di investire più in quello che può essere un processore quello che può essere una scheda video piuttosto di altri componenti che possono risultare anche superflui per esempio in questo caso per mia scelta personale ho deciso di fare una spesa superiore per esempio in quello che era il masterizzatore per quanto comunque potrete anche portare a casa un masterizzatore DVD normalissimo senza avere esigenze particolari a una quarantina ma neanche una ventina di euro oggigiorno quindi si può andare a limare spesso su molti componenti ma mi raccomando fate sempre quello che vi invito magari è non limare su quello che sarà processore scheda video che poi anche RAM ma sul RAM i costi sono bassi ma soprattutto processore scheda video che a conti fatti sono due elementi più importanti nel momento in cui andrete a giocare a dei videogiochi sul PC detto questo vi ricordo che per quanto il budget che potrete considerare del PC da me che andrò ad assemblare è intorno ai 1000 passa euro, 1200 euro circa con 400 euro in meno andando a limare su molti dei componenti come vi ho anche già detto potrete tranquillamente spendere 1-600 euro per avere un PC sicuramente dalle prestazioni soddisfacenti con questo io vi ringrazio anche per l'attenzione della puntata odierna e non mi resta che augurarvi buona giornata o buona sera insomma dipende a che ora state visualizzando questo video ma soprattutto a invitarvi a non perdervi i prossimi video che riguarderanno l'assemblaggio del PC probabilmente saranno divisi in più parti per il semplice fatto per andare a analizzare alcune operazioni e soffermarci di più e poi comunque questo lo vedrete non so qui tanto ad anticiparvi ma mi raccomando seguite anche le prossime puntate ormai siamo verso la fine stiamo correndo verso il traguardo spero che comunque vi stia facendo piacere questa serie che è dedicata appunto al PC da gaming che come vi ho detto magari alcuni di voi ci si vogliono avvicinare ma non sto qui a parlare ancora tanto di queste cose già le sapete già ve l'ho detto nei precedenti video che se aveste perso non perdeteli tornate indietro e andate a guardarli questo è tutto io sono Lego e prossimamente andremo fino ad assemblare finalmente ad assemblare il nostro PC da gaming per gamers per noi per ragazzi che si divertono giocando bene ragazzi questo è tutto e alla prossima ciao ciao